Viene spesso detto che le mafie, la mafia regionale italiana, sono un grandissimo potere. La lotta alle mafie è sacrosanta, ma io mi prendo la responsabilità di dire che anche la mafia non è in realtà un vero potere. Al contrario, vi do un esempio molto semplice. Se noi pensiamo di sottrarre alla mafia il traffico delle armi, il traffico di droga, il traffico di prostituzione e il traffico di rifiuti tossici, cioè i quattro servizi che le mafie fanno per conto del vero potere, delle necessità del vero potere, se noi togliamo alle mafie questa roba, cosa gli rimane? Gli rimane molto di meno, molto poco rispetto al giro d'affari che stanno facendo girare oggi. Quindi di nuovo, anche la mafia che è giustissimo combattere, ma non è un potere, la mafia è un servizio del vero, del reale potere.